allora campo di addestramento della legione straniera in pieno deserto arriva la recluta nova e il consegnatario gli dà tutta la roba per stare lì a un certo punto gli fa dice guarda questa poi se ti interessa c'è la chiave della salla della cammella la chiave della salla della cammella e che ce devo fare io non ce devo fare dicevo guarda che devi stacquare sei mesi sei mesi sono lunghi no no ma che sta a scherzare io ho dei sani principi c'è una certa moralità non se ne parla proprio vabbè ti preoccupa io comunque te l'ho detto se te dovesse servire c'è la chiave della salla della cammella ma basta manco un mese questo si ripresenta gli fa senti ma posso prendere la chiave della salla della cammella e come no sta qua eccola questo prendere la chiave della salla della cammella dopo una mezz'ora ritorna gli ritaglia la chiave dice ma che hai già fatto? eh sì ma perché che l'artici mettono di più? dice beh certo apri la salla se la cammella arriva allora sei più vicino trovo una donna disponibile